Ben tornati su Cipel TV, oggi è l'11 dicembre 2018, inizieremo subito con un complex fatto da Deficit Street and Stand Push Up e Deficit and Stand Push Up, a seguire il WOD, run 800 metri, 10 round della coppia composta da 10 and stand push up e 10 single leg squat e poi altri 800 metri, per oggi è tutto, pesi carichi come al solito sulla grafica qui di fianco, noi ci vediamo domani, buona giornata!